Benvenuti a Sbarcare Informati, il servizio di comunicazione dedicato ai trafficanti di esseri umani e a tutti coloro che siano interessati a entrare clandestinamente in Italia. I signori scafisti che intendano accedere alle acque territoriali italiane potranno contare sulla collaborazione delle unità navali della Marina Militare. Le autorità saranno comprensive con loro, garantendo un soggiorno breve e non impegnativo presso le strutture detentive dello Stato. I gentili clandestini, invece, saranno prelevati direttamente dai natanti su cui viaggiano e trasportati a bordo delle imbarcazioni della Marina sulla terraferma. I cortesi ospiti saranno in breve tempo trasferiti a piccoli gruppi in strutture alberghiere dislocate su tutto il territorio nazionale, dotate di ogni confort con servizio all-inclusive, grazie a un coupon giornaliero del valore di 30 euro più IVA a persona per un minimo di oltre 1000 euro ogni mese, gentilmente offerto dai contribuenti italiani. In omaggio riceveranno inoltre una ricarica telefonica del valore di 15 euro più un contributo quotidiano per le piccole spese. È bene precisare che chi preferisse allontanarsi spontaneamente, facendo perdere le proprie tracce, sarà libero di farlo in qualunque momento e senza contestazione alcuna da parte dell'autorità italiana. Cari amici, cari utenti di Napoli TV, abbiamo inviato in onda un video molto significativo raccolto dal web che ridicolizza una situazione estremamente grave a cui noi siamo sottoposti ogni giorno. Lo sbarco continuato di clandestini che vengono a Nord Africa. Tutti rifugiati politici, chiunque arriva a Nord Africa è rifugiato politico. Ora, per il passato il rifugiato politico si limitava a pochissime unità che dovessero veramente dimostrare la loro natura di perseguitati, ma oggi invece è diventato un documento valido per l'espatrio, per entrare gratis in Italia e essere accolti dalle nostre navi militari, dai nostri guardi a coste, portati a terra, subito vestito, nutrito, pulito e addirittura con una diaria giornaliera intorno ai 40 euro. Dopodiché gli danno una tessera telefonica, gli danno un alloggio in un albergo e questi signori possono avere addirittura un vitto, colazione, pranzo e cena che ogni giorno gli arriva dalle strutture adatte a fare questo. Il costo medio per ogni persona di questi è di sopra i 100 euro, 120 euro, 130 euro. L'assurdità è che se due o tre persone hanno un contatto familiare riescono a prendere anche 100, 150 euro al giorno. Ora, se paragoniamo questo tipo di trattamento al trattamento che riserviamo a una persona anziana, povera, che vive con la pensione di povertà, di sostentamento, che è al di sotto dei 500 euro, questo signore non riesce a vivere, non riesce a sbarcare il lunario, ad arrivare alla fine del mese e addirittura va nei mercatini a rivistare nei resti della frutta che si è venduta il giorno prima per poter sopravvivere. E noi invece permettiamo che migliaia di persone a settimana entrano in Italia clandestinamente e li onoriamo e gli diamo da mangiare quando non abbiamo come sopravvivere noi. Una nazione che sta prostata, che sta in crisi, che fa cose che nemmeno più gli Stati Uniti riescono a fare. Questa è un'assurdità. E' l'assurdità per cui Equitalia ci perseguita? L'assurdità per cui una semplice multa si moltiplica per tre o una tassa non pagata si moltiplica per tre? Lo Stato che ha una fame insanabile di danaro per fare un'assistenza che non esiste. Questi signori nordafricani, questi rifugiati politici, vivono in strutture turistiche confiscate o che hanno fatto degli accordi, delle convenzioni con lo Stato o in alberghi. Gente che viveva nelle capanne viene qui e va in albergo al vitto, alloggio e la diaria. A spese di chi? A spese nostre. A spese dei cittadini italiani che pagano tasse senza limite, che non hanno nemmeno i soldi per poter vivere, danno i loro risparmi. Allo Stato, a Equitalia, per poter permettere questo. Distruggiamo le nostre ricchezze, la nostra capacità finanziaria per alloggiare sempre di più migliaia e migliaia di persone. Questa è una situazione insopportabile, anche perché è gente che non è degna di vivere nella nostra città. Se andiamo a vedere quello che succede a Napoli, a Piazza Calibaldi, che è diventato un ZUC degno dei posti più malfamati del Nord Africa, in cui intere strade sono state occupate da questi personaggi, che fanno quello che vogliono, sporcano, buttano le cose per terra. Gente che si sta distruggendo il nostro decoro, la nostra città in mano ai selvaggi, a gente che scava dei cassonetti alla spazzatura e vende la spazzatura sui marci e piedi. È la nostra amministrazione comunale che permette questo. Camminiamo per Via Toledo, per la Galleria Umberto, i negri con i lenzuoli per terra che vendono quello che vogliono, tutta merce contraffatta, che non si può vendere proprio perché è contraffatta, che non hanno nessuna licenza. Perché sta succedendo questo? Perché abbiamo ceduto la nostra città a questi personaggi. Una cosa è chiedere asilo, una cosa è entrare, una cosa è chiedere aiuto e una cosa è invadere il nostro territorio. E non solo, non si tratta solo di invasione. Noi gli alloggiamo, gli diamo i contributi, gli diamo i soldi, la carta telefonica e poi paghiamo anche le tasse. Ma che sta succedendo a Napoli? Che sta succedendo all'Italia? Chi ci sta governando? Perché fanno questo? Perché fanno questo quando abbiamo i nostri poveri da mantenere, gente di 75-80 anni che non ha come mangiare. Andiamo a un mercatino, alla chiusura e vediamo tutti questi signori italiani, anziani, con decoro, che vanno a scavare nei cassonetti per vedere se possono portare un po' di sfrutto a casa. Questa è la realtà. Invece vediamo addirittura, da qualche giorno a questa parte, gruppi di nordafricani che in corteo si lamentano che non hanno ricevuto in tempo o il vitto o la diaria. Ma stiamo scherzando. Questo è assurdo, 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 assurdo. Ognuno di questi signori percepisce più di 1000 euro al mese. Quasi lo stipendio che oggi un signore italiano che non ha lavoro ambisce di poter ottenere. Questi lo ottengono soltanto perché sono venuti con clandestinamente su queste navi e sono sbarcati in Italia. la conseguenza qual è? Che lo Stato per spendere questi soldi li raccoglie da noi, li pretende, li vuole con tutta la forza e ci aumenta tutto. Aumenta la rendita catastale, aumenta le contravenzioni, aumenta tutto. Cerca sempre più tasse, se è più tasse, per sperare i nostri soldi. Dobbiamo dire basta a questo sistema di governare e di distruggere la nostra ricchezza, la ricchezza degli italiani, non quella personale. a scapito di persone che non conosciamo, che non hanno mai lavorato su un nostro territorio, che non sono nati, che non sono cresciuti qui, che non hanno fatto nulla per creare l'Italia che noi abbiamo creato. È assurdo che queste persone debbano stare nelle nostre piazze, sporcare per terra, urinare, prendere la spazzatura di castanetti, stenderla su Marceppile e venderla, le guardie, i vigili passano, guardano e non fanno nulla. Ma stiamo scherzando? Da che servono tutte queste forze dell'ordine se non prendono queste persone e le portano via? Non è certamente colpa né delle forze dell'ordine o dei vigili, ma degli ordini che ricevono i nostri tutori della legge, di non toccare, di non dar fasi da questa gente, perché non possiamo essere razzisti. Non si tratta di essere razzisti. È come se noi a casa nostra, che teniamo pulita in ordine, ogni giorno vengono persone che non sanno nemmeno come si sta a tavola, siedono per terra, fanno i loro bisogni nel salone o in camera a letto, ci sporcono tutto, ci buttano le pendole per l'aria e noi che facciamo? E poi vogliono essere anche mantenuti. Ci sta solo da impazzire, da strillare che questa situazione non può più andare avanti e questo filmato è sintomatico di quello che sta succedendo. Rende ridicolo lo Stato e il governo per quello che sta facendo, perché è semplicemente assurdo. Gli italiani non ce la fanno più a vedere che ogni giorno le nostre navi vanno nel Mediterraneo a raccogliere migliaia di persone e portarle qua e poi dopo mantenerle per poterle farle vivere. Questo è tutto. Riflettiamo, riflettiamo e cerchiamo tutti quanti insieme di mandare via quei governanti che vogliono questo, che vogliono lo sfascello economico della nostra nazione per ottenere chissà che cosa ci sfugge in questo momento. ma certamente c'è un programma. Signori, alla prossima.